Ciao! Se você for a Pisa, com certeza vai conhecer a famosa Torre Pendente de Pisa. Conoscete adesso la sua história em italiano. La Torre Pendente de Pisa, ou melhor, o campanile da Catedrale de Santa Maria Assunta, era stata progettata per essere dritta. Ma già durante la costruzione, il terzo piano cominciò a inclinarsi a causa del terreno argiloso mole. L'idea fu allora quella di costruire gli altri piani in senso opposto, per cercare di raddrizzarla. La pendenza è continuata a variare, aumentando o riducendosi a seconda degli interventi fatti, per cercare di stabilizzarla, pur non cadendo grazie al baricentro sempre all'interno della base. Oggi si erge con inclinazione di circa 4 gradi e certamente nessuno avrebbe potuto dire che un errore di costruzione avrebbe reso questa bellissima città ancora più famosa. Leia na descrizione a traduzione desse texto e ouça quantas vezes você quiser per poter memorizzare questo vocabolario e mi siga per aprendere italiano e aprendere più dicas sobre a Italia. Un bacione!